Invece di fare una live fallimentare come l'altra volta semplicemente adesso registrerò Poi senti che ho trovato più leggendari che epiche, scherzavo No niente, ho trovato prima di questa pochetta ho trovato più leggendari che epiche Quindi avevi trovato due leggendari e un'epica? No, una in più Adesso vediamo Che a me adesso farà tutto il disastro, sia leggendaria per aver aperto durante l'espansione Sia la doppia leggendaria dorata del doppio pre-order, mi farà un botto di roba, vediamo L'espansione a riscita Draghi è ora disponibile, vai Ok, lo scudo di Galakron, chiaramente Oh, Drago Boldo, dorato Poi cavalca Draghi Talrita, dorata Saltata la corrente, adesso riprendiamo con i pacchetti Solo a me capiranno queste cose Il povero Zorzi si trova contro un token druid Come vanno le cose, quindi? Vale perché ho uno spesso a capi Ah E non lo draghi in mano E' infatti Ah, ne ho trovato uno Oh, ok Oh Veranus, ciao Oh, o Veranus Veranus o Veranus Oh, rinforzi tossici La carta più cancro del cacciatore Oh, il cavallo del tescaio Effettivamente mi manca quello Il 3-3 Dei draghi E' il primo che trovo Oh, seconda testrice del fato Oh, salve Cos'è? Oh Che impala Cosa c'è di peggio che ammazzarti? Oh, sì No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.